Gli incontri sono un'attrattiva dei viaggi, che non conosce la gioia di ritrovare quando non se l'aspettava. A 500 leg di distanza da Parigi, un compagno di collegio, un vicino di campagna. Chi non ha passato tutta la notte a occhi aperti, nella piccola dirigenza scampanellante delle zone in cui il vapore è ancora ignoto, vicino a una giovane sconosciuta appena intravista al bagliore di una lampada, quando è salita nella vettura davanti al portone di una casa bianca di una piccola città. E al mattino, quando si hanno la testa e le orecchie stordite dal tintinio frequente dei sonagli e dei vetri, che sensazione deliziosa vedere la giovane vicina a scarruffata che apre gli occhi, che si guarda attorno, che ravvia con la punta delle dita sottili i capelli ribelli mentre ricompone il cappellino e assicura con mano esperta che il corpetto non si sia tirato troppo su e il punto di vita cada esattamente e la non sia troppo sgualcita. Ella vi guarda con una sola occhiata fredda e curiosa, poi si compone nell'angolo e non sembra più occuparsi d'altro se non del paesaggio. Vostro malgrado la guardate spesso di sottecchi. Pensate sempre a lei. Chi è? Dove viene? Dove andrà? Abbozzate vostro malgrado nel pensiero un piccolo romanzo. È bella, sembra anche carina. Felice colui. La vita sarebbe forse squisita vicino a lei. Chissà. È forse la donna che occorrerebbe al vostro cuore, al vostro sogno, al vostro carattere. E com'è delizioso anche lo sconcerto che si prova vedendola discendere dinanzi al cancello di una casa di campagna. Un uomo è là ad attenderla, con due bambini e due domestiche. La accoglie e la serra fra le braccia, deponendola a terra. Ella si curva, prende i piccoli che le tendono le mani, gli accarezza con tenerezza e tutti si allontanano per un viale, mentre le domestiche ricevono gli involti zettati dall'imperiale dal vetturino. Addio. È finita. Non la rivedrete più. Mai più. Addio, giovane donna, che è trascosso la notte al nostro fianco. Non la conosciamo, non le abbiamo parlato, siamo ugualmente un poco tristi per la sua partenza. Addio. Ne ho, sì, di ricordi di viaggio. Allegri, cupi. Ne ho molti. Mi trovavo una volta in Alvernia, su quelle graziose montagne francesi, non troppo alte né troppo arte, intime e familiari. Mi ero inerpicato sul Saint-Sea. Allora ero entrato in una piccola trattoria presso una cappella di santuario, che chiamano Nostra Signora di Vassivier. Quando scorsi a un tavolino in fondo alla sala, intenta a disinare una vecchia signora di aspetto strano e ridicolo. Doveva avere almeno settant'anni, alta magra angolosa, con i bianchi capelli attorcigliati sulle tempie, secondo l'usanza di un tempo. Vestita come un'inglese vagabonda, in un modo maldestro e curioso, come una a cui ogni abito sia indifferente. Mangiava una frittata e beveva acqua. Aveva un aspetto singolare, occhi inquieti, una fisionomia di persona bistrattata dalla vita. La guardavo a mio malgrado, chiedendomi, chi potrà essere? Quale sarà la sua vita? Perché si aggira sola su queste montagne? Ella pagò, alzandosi per andarsene, aggiustandosi sulle spalle un piccolo scialle, i lembi del quale pendevano sulle sue braccia. Prese da un angolo un bastone da viaggio, ricoperto di nomi incisi a fuoco. Quindi uscì retta, rigida, con un grande passo, da fattore che si metta in cammino. Una guida l'attendeva davanti alla porta. Si allontanarono insieme. Li guardai discendere il vallone. Era più alta del suo compagno e sembrava andare più in fretta. Due ore dopo Miner picai sui margini della profonda conca che contiene, in una enorme e meravigliosa corona di vegetazione, piena di alberi, di arbusti, di rocce e di fiori, il lago Pavan, così tondo che sembra fatto col compasso, così trasparente e turchino che si direbbe un fiotto di azzurro colato dal cielo, così grazioso, che si vorrebbe vivere in una capanna sul versante del bosco dominante quel cratere dove dorme l'acqua tranquilla e fredda. Ella era là, ritta, immobile, intenta a contemplare la distesa trasparente in fondo al vulcano spento. Guardava come per vedere giù, nella profondità sconosciuta. Popolata si diceva di trote grosse come mostri che avevano divorato tutti gli altri pesci. Come le passai a costo, mi sembrò che due lacrime le brillassero negli occhi, ma ella si allontanò a grandi passi per raggiungere la guida, rimasta ad attenderla sulla spianata, ai piedi della salita che conduceva al lago. Non la rividi quel giorno. L'indomani, al calare della notte, giunse al castello di Mourol. La vecchia fortezza, torre gigantesca, ritta picco in mezzo a una larga vallata, all'incrocio di tre valloni, si drizza sul cielo, bruna, piena di crepacci, gibbosa e rotonda, dalla larga base circolare sino alle torrette diroccate della vetta. Essa colpisce più di ogni altra rovina, per la sua semplice, enorme mole, la sua maestosità e l'aspetto antico, possente e grave. Se ne sta lì, sola sola, alta come una montagna. Regina morta, ma pur sempre regina, delle valli che sono sotto di essa. Qui si arriva da una salita ombreggiata di abeti. Si passa da una porta stretta. Ti si arresta ai piedi della muraglia della prima cinta, da dove si domina tutta la regione. Dentro le scale sono lì per crollare. Alle scale mancano scalini. Saprono improvvisamente voragini, sotterranei, celle segrete, muri tagliati a mezzo. Volte che non si sa dove poggiano. Un intrico di pietre, di crepacci, tra cui spunta l'erba o guizzano gli animali. Ci rovogavo da solo tra quelle rovine. All'improvviso vidi dietro un muro un essere, una sorta di fantasma. Forse lo spirito di quell'antica casa in rovina. Sorpreso e un po' impaurito, ebbe un trasalimento. Poi riconobbi la vecchia donna che avevo già notato due volte. Piangeva. Piangeva dirottamente, tenendo in mano il fazzoletto. Mi voltai per andare via, ma lei, piena di vergogna per essere stata sorpresa, mi disse, «Sì, signore, sto piangendo, e non mi capita molto spesso». Non sapevo che rispondere, e valbettai confuso. «Mi scuso, signora, per avervi disturbata. Di certo dovete essere stata vittima di qualche disgrazia». Lei susurrò, «Sì e no. Sono come un cane randagio». Si coprì gli occhi con un fazzoletto e scoppiò in singhiozzi. Tercando di calmarla, le presi la mano, commosso da quelle lacrime contagiose. Di colpo mi raccontò la sua storia, come se non volesse più reggerne il peso da sola. «Oh, signore, se sapeste come sono sconfortata. Chi vitagrama è la mia. Ero felice. Ho una casa laggiù al mio paese, ma non ci posso ritornare. Non ci tornerò più. Soffrirai troppo. Ho un figlio. Ho un figlio. È lui». I figlioli non sanno. «C'è un tempo tanto breve da vivere. Se lo vedessi adesso, forse neppure lo riconoscerai». Quanto gli ho voluto bene. Anche prima che nascesse, quando lo sentivo muoversi dentro di me. E poi dopo. Quanto l'ho baciato, carezzato, coccolato. Se sapeste quante notti ho trascorso guardandolo dormire. E quante altre pensando a lui. Ne ero pazza. Aveva otto anni quando il suo padre lo mandò in collegio. Fini tutto. Non era più mio. Dio mio. Veniva tutte le domeniche. E basta. Poi andò in collegio a Parigi. Veniva solamente quattro volte l'anno. E ogni volta mi stupivo dei cambiamenti della sua persona. Mi stupivo che fosse tanto cresciuto senza che io l'avessi veduto crescere. Mi hanno rubato la sua infanzia, la sua fiducia, il suo affetto che non si sarebbe mai allontanato da me. Mi hanno rubato tutta la felicità che avrei provato nel sentirlo crescere e diventare un ometto. Lo vedevo quattro volte l'anno. Se pensate, ad ogni visita il suo corpo, lo sguardo, le mosse, la voce. La risata non erano più uguali. Non erano più miei. Come cambia presto, ragazzo? E quando non si è presenti mentre cambia? Che tristezza. Non è più lui. Un anno arrivò con le guance coperte di peluria. Proprio lui, mio figlio. Ne fu stupefatta e rattristata. Ci credereste? Avevo appena il coraggio di dargli un bacio. Era ancora lui. Il mio piccino, il mio biondino ricciolino, il mio caro, carissimo bambino che avevo tenuto sulle ginocchia quando era in fasce, che aveva assorbito con le labbrucce ingorde il latte del mio petto. Lui, quel ragazzone bruno che non sapeva nemmeno più farmi una carezza, sembrava che mi volesse bene solo per dovere, che mi chiamasse mamma per convenienza. Mi baciava in fronte mentre io avrei voluto abbracciarlo così forte da soffocarlo. Mio marito morì e dopo di lui persi i genitori, poi le mie due sorelle. Quando la morte entra in casa pare che voglia fare più lavoro di quanto le sarebbe possibile per non doverci tornare entro breve tempo. Lascia in vita due o tre persone perché possano piangere gli altri. Rimasi sola. Il mio figliolone studiava legge. Speravo di vivere e di morire vicino a lui. Lo raggiunsi a Parigi per vivere insieme, ma ormai viveva come uno scapolo e mi fece capire che gli davo fastidio. Andai via. Ho sbagliato. Ma sentirmi importuna mi faceva troppo soffrire. Ero sua madre. Me ne tornai a casa. Non lo rividi più. O quasi. Si sposò. Che gioia! Finalmente ci saremmo riuniti per sempre. Avrei avuto dei nipotini. Aveva sposato una ragazza inglese che mi prese in antipatia. Perché? Forse perché sentiva che gli volevo troppo bene. Fui costretta ad andarmene ancora una volta. Sì, signore. Mi ritrovai sola. Poi lui partì per l'Inghilterra. Si trasferiva da loro, dai genitori della moglie. Capite? Me l'hanno preso loro, il mio figliuolo. Me l'hanno rubato. Mi scriveva tutti i mesi i primi tempi. Ogni tanto veniva a trovarmi. Ma ora non viene più. Sono quattro anni che non lo vedo. Aveva le rughe sul viso e i capelli bianchi. È possibile. Quell'uomo quasi vecchio. Mio figlio. Il mio piccino roseo. Di certo non lo vedrò mai più. Viaggio tutto l'anno. Ora qui, ora là. Come vedete? Senza nessuno. Sono come un cane randagio. Addio, signore. Non rimanete vicino a me. Avervi detto tutte queste cose mi fa star male. Mentre scendevo la collina, mi voltai e vidi la vecchia in piedi su una muraglia screpolata a contemplare i monti, la lunga valle e in fondo il lago Chambon. Come una bandiera sventolava il fondo della sua veste e lo strano challe che portava sulle magre spalle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.